va bene allora ok teoricamente dovreste sentirmi tutti quanti vediamo se perfetto, vedo Emma Galli che fa sì con la testa sentiamo, vi sentiamo ciao Alessandro, ciao buona serata, sentiamo bene occasionalmente siamo qui in presenza la platea è vuota però è un piacere avere De Nicola qui con noi Emma se vuoi fare un piccolo saluto al professore certo, volentieri, volentieri, insomma per noi della fondazione è un piacere avere Alessandro che è stato anche con noi lo scorso anno per una bella lezione che fu molto apprezzata dai partecipanti lo scorso anno, io credo che tutti insomma conoscano Alessandro De Nicola ma naturalmente qualche parola di rivoluzione è sempre opportuna dunque il professor De Nicola è il signor partner di Orrick Italian Office e si occupa di diritto commerciale, diritto societario dal nostro punto di vista in realtà quello che insomma ci avvicina molto al professor De Nicola è la sua presidenza dell'Adam Smith Society oltre al fatto che ha contribuito e continua a contribuire diciamo con numerosi articoli a quotidiani del tipo la stampa l'espresso, il foglio e un sole ventiquattro ore il mondo e panorama è tra l'altro professore alla Bocconi di corporate law e di comparative business law oggi diciamo di cosa ci parlerà Alessandro? Questo ecco lascio subito la parola al nostro relatore che ovviamente saluto ringrazio per aver voluto essere con noi stasera e quindi appunto ci racconterà a lui qual è il tema di cui ci vorrà parlare oggi grazie Alessandro e a te la parola non si sente più adesso sentite? adesso sentite? ora sì ora sì ok allora rinnovo i ringraziamenti mi ha fatto piacere visto che ero a Roma a passare per la fondazione così ho salutato gli amici presenti e il tema di oggi qual è? sostanzialmente il tema è il liberalismo di David Hume David Hume è ritenuto da molti come il più grande filosofo di lingua inglese naturalmente diciamo non è un'opinione unanime c'è anche John Locke per parlare di filosofi a noi cari e comunque diciamo sia la Gran Bretagna che gli Stati Uniti hanno prodotto molti filosofi però David Hume sicuramente è tra i vari filosofi uno di quelli come dire completi nel senso che nella tradizione del filosofo aristotelico si è occupato di epistemologia di religione di teoria appunto della conoscenza è un filosofo che decisamente ha molto inciso sul anche sul pensiero successivo ha molto inciso su Kant decisamente Kant ha sempre riconosciuto il suo debito nei confronti di David Hume allora David Hume è un filosofo scozzese tant'è che è grazie a pensatori come lui che alla fine si parla della corrente dell'illuminismo scozzese Adam Smith Hutchinson e altri e nasce ad Edimburgo nel 1711 e muore relativamente giovane diciamo così per l'epoca forse no perché muore a 65 anni che oggi ci sembra giovane però all'epoca era sicuramente più della media di quanto campasse il resto della popolazione sempre ad Edimburgo muore nel 1776 in coincidenza tra l'altro nel 1776 è un anno importante l'anno della dichiarazione di indipendenza americana ed è l'anno in cui Adam Smith pubblica la ricchezza delle nazioni libro che David Hume legge perché l'amicizia tra i due è un'amicizia molto forte è un'amicizia che durerà per tutta la vita Adam Smith è un po' più giovane di David Hume ma c'è un epistolario in cui si vede un legame affettivo intellettuale che durerà decenni di una forza notevole quindi David Hume legge anche la ricchezza delle nazioni gli dà suggerimenti Adam Smith come vedremo poi molto brevemente è influenzato dalle teorie di David Hume e per l'appunto Hume non ha nella sua opera tralasciato anche se non è la parte per la quale è più famoso non ha tralasciato anche gli aspetti economici oltre che gli aspetti morali religiosi di metafisica di epistemologia e così via allora David Hume per l'appunto tutti sappiamo che si inserisce nella tradizione dell'empirismo che alcuni collocano addirittura in uno scetticismo è famosa il paradosso di David Hume il fatto che il sole sorge tutti i giorni non ci dice che domani sorgerà di nuovo David Hume dà una grande importanza all'aspetto sensoriale sono i sensi quelli attraverso i quali noi apprendiamo non non ha alcuna come dire simpatia verso la teoria delle idee non esiste niente al di fuori del mondo nel quale noi apprendiamo e verifichiamo e un'altra cosa importante di David Hume è l'importanza che dà nell'uomo alle passioni nel senso che nonostante David Hume per l'appunto sia un empirista sia assolutamente contrario sia contrario a tutto quanto sia irrazionale ma non è un razionalista cioè prende l'uomo per quello che è e quindi le capacità dell'uomo di ragionare devono sempre essere non disgiunte nell'analisi di quelle che sono le motivazioni dell'uomo dalle sue passioni che lui ritiene che in qualche modo determinino l'agire umano molto di più di quanto sia il ragionamento astratto quindi sensorialità passione empirismo sono tutte caratteristiche di fondo del pensiero di Hume che naturalmente lo portano a escludere mettiamola così sistemi teorici assoluti o teologie della storia di stampo platonico egheliano ma anche se volete di stampo aristotelico nel senso che Aristotele pur essendo il principe dei razionalisti però insomma pensava che il mondo avesse una finalità che ci fosse una finalità in tutto quello che facciamo per Hume questa finalità non c'è questo gli porterà naturalmente un po' di guai durante la sua vita perché gli porterà un po' di guai durante la sua vita perché nonostante già nel corso della sua esistenza sia stato riconosciuto come un un grande intellettuale però fu osteggiato dagli ambienti ecclesiastici che sostanzialmente gli ambienti ecclesiastici scozzesi non dalla chiesa cattolica ovviamente quindi presbiteriani e a turno gli anglicani quando erano in Inghilterra perché naturalmente veniva visto come uno scettico quasi ateo in realtà nei suoi scritti sulla religione la storia della religione David Hume ha un approccio un po' diverso nel senso che non professa un ateismo lui ritiene anche la religione è importante perché diciamo dall'approccio alla religione poi viene fuori anche l'approccio a quello che è la filosofia politica difficilmente le due cose sono disgiunte soprattutto nella filosofia politica del passato era quasi impossibile non concentrarsi sulla sulla religione è solamente un come dire un prodotto dell'intelletto moderno quello che divide completamente la religione dalla filosofia della politica e ritiene la metafisica comunque qualcosa che è completamente staccata dal nostro porsi rispetto alle cose del mondo quindi insomma Hume ha una concezione religiosa anche qui che si rifà e che si approccia al suo tipico empirismo siccome lui ritiene che non sia possibile ragionare in astratto su Dio o sulle prove dell'esistenza di Dio nel senso che l'esamina esamina quella aristotelica esamina quella ontologica di Anselmo da Osta ma alla fine la sua conclusione è che sono comunque dimostrazioni indimostrabili perché noi possiamo razionalmente pensare a un Dio ma siccome empiricamente non sarà possibile mai pensare non sarà mai possibile in qualche modo arrivare a una dimostrazione verificata non se ne può dire oppure non se ne può affermare l'esistenza attraverso le classiche prove dell'esistenza di Dio siano quelle di Anselmo da Osta piuttosto che di Aristotele stesso del motore primo mettiamola così allora il suo approccio per l'appunto empirista lo porta sostanzialmente a scrivere una storia delle religioni e in questa storia delle religioni che cosa fa David Hume si interroga come nascono le religioni questo è un altro aspetto importante per poi capire come sarà il suo approccio politico perché nascono le religioni per Hume le religioni nascono perché all'inizio della sua esistenza in società mettiamola così l'uomo è circondato da una natura che a volte benigna a volte maligna e comunque lui non riesce mai a capire perché perché il vulcano erutta un dato giorno e invece poi sta quieto per per anni perché nella natura gli animali servono a sostentamento ma le berbe feroci ti assalgono siccome l'uomo non è capace di comprendere pensa che ci sia un qualcosa al di fuori che muova e siccome pensa che ci sia qualcosa di fuori che muova e però nascono delle diciamo però ci sono degli eventi diversi che vengono dalla natura tende a pensare che ci siano degli dei e quindi per questo c'è il politeismo perché ognuno di questi è responsabile di un qualche cosa e quindi bisogna cercare di ingraziarsi questi dei in qualche modo in modo che evitino il male e continuino con il bene questa cosa del politeismo iniziale fa sì che gli dei non siano così diversi dagli uomini e questo siccome non sono così diversi dagli uomini perché se pensiamo agli dei che ci sono più familiari per la nostra cultura di dei greci e romani sono dei litigiosi capricciosi invidiosi crapuloni divertenti narcisi quindi hanno molte caratteristiche umane hanno dei superpoteri ma hanno molte caratteristiche umane e questo paradossalmente porta a più tolleranza perché poi alla fine un dio più un dio in meno e Roma è stato l'esempio culmine se uno si limitava a osservare il culto dell'imperatore ma questo era un qualche cosa di politico naturalmente poi non c'era bisogno di affermare la prevalenza di un dio rispetto all'altro mano a mano però l'uomo secondo Hume progredisce e va verso il monoteismo perché in qualche modo intellettualmente tutti questi dei non soddisfano più la ragione è veramente improbabile che ci sia tutto questo circo nell'Olimpo che possa in qualche modo resistere a un come dire a un'analisi intellettuale tant'è che i grandi filosofi anche i greci parlano di un dio di un demiurgo ne parla Platone di un dio parla Aristotele di un dio parla Epicuro gli stoici gli stoici sono più panteisti ma insomma non sono panteisti con tanti dei e naturalmente però se c'è un unico dio che è infallibile e così via anche questo crea dei problemi nel senso che si crea il problema tipico della religione ma se lui sa tutto o può tutto perché succedono cose che vanno che vanno in una certa direzione cioè vanno in una direzione del male e altre che vanno in una direzione del bene e e questo porta alla provvidenza cosa sulla quale David Hume non scommette un penny nel senso che secondo lui diciamo l'uomo non può pensare di dire che c'è una provvidenza di nessun genere perché grazie al suo approccio empirico non c'è una prova empirica di un qualche disegno provvidenziale e detto ciò però Hume non sfocia in un ateismo too cool Hume si colloca in quel filone poi dell'illuminismo che sta a metà tra il deismo cioè è possibile che ci sia un grande autore ma se c'è un grande autore comunque si disinteressa diciamo una volta che ci lascia in terra e l'agnosticismo non è mai molto chiaro ma non è mai molto chiaro volutamente lo si vede nell'epistolario con i suoi amici lui dice sempre che quando parla di religione è sempre un po' incerto se dire o non dire perché se dico troppo poi non avrò mai la cattedra dell'università cosa che poi non ebbe in ogni caso perché la cattedra dell'università gli fu negata comunque e quindi sfoca un po' le sue posizioni per quello che riguarda il sentimento diciamo la religione ma la religione però è importante perché se è vero se è vero che se esi ammettendo pure che esista un dio è un dio che è un autore della natura ma non è un dio né che ha un suo disegno provvidenziale né che interviene nelle cose umane beh questo vuol dire tanto per cominciare che non ci sono dei governanti che governano per grazia di Dio e già questo dal punto di vista politico è enorme nel senso che se io non governo in quanto sono il rappresentante di Dio in terra evidentemente la mia legittimità deve venire da qualche altra parte e in secondo luogo chi governa non può pensare di governare perché realizza un disegno di Dio e anche questo naturalmente sono due atteggiamenti che portano verso quello che è sicuramente un pluralismo una società pluralista se non c'è nessuno che può essere il rappresentante di Dio e nessuno che può pretendere di governare perché come i Blues Brothers in missione mandato da Dio beh evidentemente bisogna trovare un modo che non sia la forza brutta per cercare di stare in società allora come fa l'uomo a stare in società allora David Hume pensa che il nucleo della coscienza umana vada ricercato nella simpatia che l'uomo ha nei confronti dell'altro uomo è una simpatia che poi verrà ripresa anche da Adam Smith nella teoria dei sentimenti morali ma in Adam Smith è lievemente diverso in senso in Adam Smith è proprio un'empatia quindi non so se capita a qualcosa a qualcuno di male ci si immedesima si cerca di fare in modo che non capiti se vogliamo un precetto molto cristiano non augurare agli altri quello che non vorresti che capitasse a te quindi la simpatia di Adam Smith è molto empatica invece la simpatia di di Hume è una simpatia nel senso di condivisione del del destino di uomo in qualche modo il destino della propria umanità e questa simpatia è una consapevolezza sostanzialmente di un di un destino comune e che questo destino comune per per essere in qualche modo governabile non sfociare nell'anarchia o nella violenza o nella tirannide abbia bisogno di regole generali abbia bisogno di un equilibrio diciamo l'aspetto dell'equilibrio in David Hume è sempre molto importante perché lo vedremo c'è anche nelle soluzioni politiche c'è l'equilibrio tra autorità e libertà così come nell'essere umano c'è l'equilibrio tra la passione e l'intelletto e il giudizio che la natura in qualche modo ha concesso ha concesso o diciamo l'espressione potrebbe essere fuorviante sappiamo che non pensa che ci sia un demiurgo che abbia concesso l'uomo però insomma l'uomo si ritrova con questo mix di passioni e di ragioni e quindi bisogna prenderne bisogna prenderne atto e l'intelletto e la ragione servono a modulare la passione ma sarebbe assurdo pensare che la possa completamente eliminare quindi l'ideale del filosofo greco del che vive senza passioni e solamente affidandosi alla ragione sia nella sua versione platonica che nella sua versione aristotelica che nella versione stoica dove addirittura si passa la tarassia e la tonia non è non è quello che David Hume ritiene in qualche modo un punto di partenza per capire per capire l'uomo e il suo agire sociale e questa simpatia fa sì anche che che l'uomo in qualche modo aiuti l'altro uomo attraverso un meccanismo che poi diventa benefico per tutti che è quello della divisione del lavoro perché l'uomo si aiuta ognuno facendo qualche cosa beh ma perché si rende conto qui appunto è molto empirico questo poi sarà molto importante sulla considerazione di come nascono le società adesso poi vedremo c'è una forte polemica anticontrattualista anche se i cultori del contratto sociale sono stati anche dei grandi liberali che non solo lo so ma anche Locke è in qualche modo un contrattualista però lui pensa che il contrattualismo non abbia molto senso lo vedremo dopo perché in realtà è un processo di adattamento dell'uomo molto evoluzionista se vogliamo quindi l'uomo capisce mano a mano che ognuno facendo qualche cosa si sta si vive meglio senza bisogno di un contratto che dica ci organizziamo in società in modo che ognuno faccia secondo le sue abilità in realtà spontaneamente qui è proprio il precursore dell'ordine spontaneo che poi sarà uno dei capisaldi di AIEC spontaneamente gli uomini per ripararsi da dire dai capricci della natura e della mutevole fortuna e per fare le cose meglio capiscono che con la divisione del lavoro riescono a raggiungere questo scopo possiamo cambiare slide ecco qui io ho messo dei passi proprio di Hume che leggiamo per poi interpretare e qui dice la benevolenza la generosità affezioni come l'amicizia la compassione la gratitudine hanno le loro hanno le hanno le loro cause i loro effetti i loro oggetti distinti dalle passioni egoistiche ecco si è un po' lontano lo schermo ok si si va bene va bene allora qui questo è proprio diciamo un riassunto di quello che abbiamo detto nel senso che è proprio la simpatia che si estrinseca in amicizia compassione gratitudine e così via che fa sì che l'uomo copri assieme al di là delle passioni egoistiche poi vedremo un'altra cosa molto interessante che è vero che Hume allo stesso modo di di Adam Smith parla del del self interest perché poi riguardo alle teorie sia di Adam Smith che di che di Hume si è sempre utilizzato in italiano la traduzione con egoismo che ha una connotazione nella lingua italiana non positiva no diciamo anche quando si dice attraverso l'egoismo individuale poi la società raggiunge invece i benefici collettivi però egoismo comunque è un qualche cosa che non suona bene in realtà lui parla più di self interest mentre l'egoismo in qualche modo così come lo concepisce Hume è un qualcosa di diverso cioè è un egoismo che è centrato tutto sulla propria persona e che però invece è dannoso quindi tutti gli elementi della simpatia generosità amicizia e così via contribuiscono a far sì ancora una volta in una situazione di equilibrio vedete quanto è importante sempre lo ribadisco perché è proprio un filosofo che ha una visione anche come dire ottimistica della natura umana se portata verso un equilibrio se ci si rende conto che c'è un equilibrio delle varie componenti si riesce ad operare bene anche nella società quindi per farla breve queste caratteristiche riescono a far sì che anche le passioni possano essere ben incalanate e però il rovescio della medaglia è che non è che le passioni sono per forza negative non è che per l'appunto alla filosofo greco allo stoico e poi tutti i suoi derivati perché poi naturalmente tutta la filosofia successiva in qualche modo decanta le virtù diciamo contemplative questo spostato troppo sia un bene ci vuole sempre l'equilibrio tant'è che in polemica lui è sempre in polemica lo vedremo poi anche dopo con i maledetti puritani presbiteriani che infestano la Scozia che lui li tiene anche peggio dei cattolici sotto quel profilo perché sono troppo puritani e fa questa bellissima frase dice il celibato il digiuno la penitenza la mortificazione l'abnegazione l'umiltà il silenzio la solitudine e tutte le virtù monastiche qui modernamente avrebbe detto che palle per quale ragione tutto ciò viene respinto dagli uomini di buonsenso se non perché non serve a risultati di alcun genere non fa progredire la fortuna di una persona al mondo né la rende un elemento più apprezzabile della società e più capace di divertire una compagnia di amici guardate come dire che umanità che c'è in un tali qualità ottundono l'intelligenza e induriscono il cuore intorbidano la fantasia e inaspriscono il carattere questo è l'altra faccia della medaglia abbiamo visto l'intelligenza la generosità la simpatia sono un contraltare alle passioni ma la mortificazione di qualsiasi passione è altrettanto dannosa tant'è che lui comunque è popolarissimo fra tutti i suoi amici quando lui va a Parigi per qualche anno diventa il re dei salotti perché tutti lo invitano perché lui è pieno di senso dell'umorismo lo chiamano il bon David perché conversa con tutti quanti nella società salottiera parigina e per lui stare con gli amici avere il senso dell'umorismo dell'ironia e divertire un po' fa parte della buona vita come dargli torto quindi vedete qua in queste due frasi c'è proprio l'equilibrio infatti viene tratto sia l'uno che l'altro pezzo da il saggio sui principi principles of morality però ancora una volta religione principi morali e così via sono ovviamente un aspetto essenziale per capire che tipo di società politica noi vogliamo faccio io fai fai sì sì ed ecco invece l'aspetto di anticontrattualismo che lo troveremo varie volte allora la tesi obesiana o di Rousseau ma anche di Locke per la verità non è solamente un qualche cosa che diciamo deriva da dei filosofi che poi hanno un esito se non se non totalitario ma insomma autoritario o comunque non liberale il contattualismo non ha molto senso perché non c'è un contratto sociale che è costitutivo della della società come abbiamo visto prima parlando prima della religione che prima si affidano a un po' di dei diversi poi a un dio solo parlando della divisione del lavoro parlando della come dire del compenetrarsi della passione dell'intelletto della simpatia e invece del dei principi morali di astinenza mettiamola così dal dai piaceri corporali tutto questo porta a dire che in realtà l'evoluzione è un'evoluzione per la quale ci si organizza spontaneamente e la società si organizza in modo incrementale scopre mano a mano quali sono gli aspetti che la fanno progredire o la fanno stare più al sicuro questo ovviamente è fondamentale perché è fondamentale è fondamentale perché se la società politica nasce in quanto gli uomini cooperano volontariamente e quindi insomma si interagiscono tra di loro per cercare di migliorare la situazione beh questo vuol dire che è necessario un certo grado di libertà perché senza libertà come si fa a organizzarsi e cooperare se c'è qualcuno che comanda vuol dire che non coopera comanda se c'è qualcuno che segue e obbedisce vuol dire che non coopera se c'è un consesso che si mette d'accordo per un grande contratto vuol dire che poi sono tenuti tutti a questo contratto mentre invece le cose cambiano si evolvono e non è che ogni tot secoli ci si ritrova per cambiare questo contratto fondamentale e lui utilizza un'espressione che poi è rimasta molto famosa per far capire come le persone gli uomini si organizzino in modo volontario questo è rimasto molto famoso sul trattato sulla natura umana due uomini che manovrano i remi della stessa barca lo fanno per accordo o convenzione quando anche non si siano fatti alcuna reciproca promessa se tu metti due uomini su una barca e gli dai dei remi beh senza che ci sia bisogno di fare un contratto in cui si dicono remeremo tutti e due nella stessa direzione per andare avanti cominciano a remare oppure se magari non sono mai andati in barca in vita loro fanno dei tentativi un remo poi alla fine scoprono che se remano tutti e due nella stessa direzione riescono ad andare avanti quindi questo questo atteggiamento mettiamola così mentale è poi anche quello che fa sì che si possa dire che il contrattualismo in realtà non non è una buona giustificazione possiamo cambiare e lo vediamo spiegato sempre sempre meglio allora lui utilizza questa parola convenzione anche prima quando abbiamo parlato dei due che remano dicono lo fa non per un contratto ma lo fa per convenzione ma cos'è questa convenzione la convenzione non è semplicemente una sostituzione del contratto per convenzione spiega bene Hume si deve intendere un senso di interesse comune che ogni uomo sente nel proprio petto e che lo conduce la simpatia insieme ad altri all'interno di un piano di uno schema generale di azioni che tendono alla pubblica utilità in altre parole per sempre ribadire quello che abbiamo detto c'è questa simpatia che fa sì che gli uomini alla fine cooperino insieme e questa simpatia però è unita o è espressione di un self interest poi lo vedremo anche più avanti nel senso che tu hai simpatia e cooperi con gli altri ma perché capisci anche nel tuo interesse e quindi ti fa piacere non litigare col tuo compagno di barca e diciamo fare in modo che tutti e due remiate nella stessa direzione senza prendervi a colpi di remo in testa oppure cercando l'uno di buttare fuori dalla barca l'altro e remare da solo che è più faticoso quindi lo fai hai questa voglia di cooperare ma anche perché è nel tuo interesse le due cose stanno insieme in due si rema più veloci nella stessa direzione ecco l'altra e qui siamo più già nel politico questa infatti viene dal trattato sulla natura umana questa altra citazione che già è una citazione con esiti più politici cosa dice david yun la convenzione fra tutti i membri della società convenzione intesa come l'abbiamo visto prima cioè il senso di interesse comune che porta a fare certe cose ha lo scopo di rendere stabile il possesso dei beni materiali e di lasciare ognuno nel godimento politico di ciò che può acquisire con il suo lavoro e la sua fortuna adesso possiamo andare avanti perché questa è una cosa che adesso sviluppiamo quindi questa è una frase più politica nel senso che questo benedetto self-interest che rivediamo qua e che porta a una ordinata vita sociale come la chiama lui sia negli aspetti economici che negli aspetti civili porta a far sì che questa ordinata vita sociale sia quando ognuno può godere dei frutti del proprio lavoro può essere sicuro che non verrà privato dei frutti del proprio lavoro non verrà privato della proprietà e che qualsiasi cosa riguardi anche la proprietà di se stesso naturalmente non è che ci sono la proprietà solo dei beni materiali ma anche la proprietà di se stesso è parecchio importante quindi diciamo nel XVIII secolo c'era ancora la schiavitù non è che era stata abolita solo dopo il congresso di Vienna la schiavitù ma c'era ancora la schiavitù e anzi come dire semplicemente nelle colonie americane il commercio della schiavitù al sud era fiorente mettiamola così quindi qui appunto viene un aspetto assai politico perché questa simpatia questa autorealizzazione dell'interesse di questo self interest sia se tu rispetti l'altro e per far questo non c'è bisogno del leviatano perché l'egoismo porta poi all'uomo homini lupus l'egoismo semplice dice devo cercare di assicurare per me e per la mia famiglia i beni quindi per assicurare do mazzate agli altri e gli porto via la roba allora per evitare che questo succeda se no c'è l'anarchia la distruzione della società arriva il leviatano e dice fermi tutti adesso nessuno si fa male l'un con l'altro comando solo io non c'è bisogno non c'è bisogno né c'è bisogno di tutte le astrusità della volontà generale di Rousseau poi lì sarebbe da tenere un incontro solo sul rapporto tra Hume e Rousseau che sembra veramente il il rapporto tra la persona di buonsenso generosa Hume invece il fanatico che complottista Rousseau era un complottista lui a un certo punto scrive lettere in cui dice tutti complottano contro di me anche David Hume che proprio ospitava a casa sua quindi poi alla fine spesso le personalità portano anche hanno un'influenza anche sul pensiero che si sviluppa quindi per l'appunto il modo in cui si sviluppa la società porta anche a delle conseguenze politiche e le conseguenze politiche sono quelle della stabilità del possesso della volontarietà del trasferimento dei beni della intangibilità della propria persona e così via andiamo pure alla prossima e diciamo chicca chicca finale o non finale ma semifinale diciamo così su questo come dire necessità su questa necessità dell'equilibrio per la vita umana e questo è proprio una come dire un aspetto molto politico tant'è che è nel saggio The Origins of Government quindi qui proprio siamo nella politica e The Origins of Government è interessante perché è un saggio del 1774 quindi poco prima che Hume morisse e proprio è un saggio della super maturità perché Hume era uno molto precoce il trattato sulla natura umana l'ha fatto a 27 28 anni infatti poi lui se ne pente diceva pubblicato troppo presto se aspettavo un attimo magari evitavo di prendere delle posizioni troppo troppo nette mettiamola così ed era stupito che non avesse il meritato successo mentre invece il libro che ebbe i libri che ebbero più successo furono quelli della storia dell'Inghilterra in cui non solo c'è una storia curata dell'Inghilterra ma c'è anche una filosofia della storia però di questo non abbiamo tempo per occuparci allora dicevo questo delle origini del governo è un libro del 1774 in cui diciamo nella fase di super maturità del pensiero di Hume Hume nell'ultima fase aumenta il suo scetticismo e questo suo scetticismo sia sulla capacità di governo da parte dei governanti sia sulla capacità dell'uomo di rendersi conto di essere un equilibrio di ragione passione di sapere governare di poi trasfondere questa una società politica allora il fattore equilibrio diventa sempre più importante perché diciamo sono delle paratie istituzionali a quello che è un'azione dell'uomo che naturalmente più passano gli anni più uno si dispera che l'uomo possa migliorare anche uno che era scettico di natura come Hume non si era mai fatto illusioni soverche quindi questo è molto interessante lo leggiamo anche questo ho cercato di fare delle slide con più citazioni dirette possibili ma anche perché Hume fortunatamente aiuta nel senso che alcune frasi le puoi estrapolare e danno bene il senso di quello che pensi il governo che comunemente si ritiene libero è quello che ammetto una ripartizione del potere tra molti membri la cui autorità non è meno grande anzi è maggiore di quella del sovrano ma che nel corso ordinario dell'amministrazione deve agire conformemente a leggi generale noto in precedenza tutti i membri e i loro sudditi vediamo intanto qui questa cosa fondamentale poi Hayek che è proprio un grande iumiano leggi generali astratte legge legislazione libertà è il mantra le leggi generali astratte in Hayek che ovviamente è più moderno soprattutto contrapposte alla regolamentazione troppo pervasiva e troppo ad hoc che in realtà crea molte più disparità pensando di sollevare la condizione di alcuni disvantaggiati in realtà creando una fastellarsi di regolamentazione svantaggia tutti però appunto le leggi generali Hayek lo dice chiaramente note in precedenza tutti i membri del governo governo quindi l'amministrazione e ai loro sudditi in questo senso occorre ammettere che la libertà rappresenta la perfezione della società civile e qui noi liberali siamo tutti contenti però siccome lui è scettico la presenta la perfezione però è come si dicesse ahimè la perfezione non esiste quindi eppure l'autorità va riconosciuta essenziale alla sua stessa esistenza e nelle contese che spesso si producono tra l'una e l'altra che l'ultima può per tal modo pretendere la preferenza qui diciamo è un liberalismo che oggi chiameremmo conservatore diciamo così nel senso che la libertà perfetta è la cosa perfetta la vogliamo tutti però siccome l'uomo non è perfetto dagli tutta sta perfezione bisogna andarci cauti e quindi ci deve essere un equilibrio e in alcuni casi l'autorità deve poter prevalere sulla libertà chiamiamola così anarchica proprio perché come dire l'uomo non è capace di gestire tutta questa perfezione infatti Hume si si considera un old wig che diciamo sapete che c'erano i wig e i toris è vero che i wig erano liberali ma ed erano liberali sicuramente rispetto ai toris ma è anche vero che gli old wigs erano quelli della tradizione di quello che poi diventa il conservatorismo di Edmund Burke perché sono scettici sulla natura umana e se essendo scettici sulla natura umana non pensano ci possono essere questi grandi piani di palingenesi anche se è una palingenesi di libertà sì perfetto libertà bellissima ma non esageriamo possiamo andare avanti questo riassumiamo perché l'ho detto incidentalmente però è bene tenerlo come punto fermo sulla filosofia politica di Hume anche perché poi ci introduce alla parte economica ed è la parte appunto sulla proprietà l'abbiamo già detto però qui è bene appunto è bene cristallizzarlo allora i diritti di norme sulla proprietà sono dei diritti naturali ma non naturali come lo intendono i gius naturalisti che anche tra i gius naturalisti c'è una anzi i gius naturalisti nascono sicuramente come precursori del pensiero liberale e anche tra i filosofi liberali contemporanei c'è una forte corrente gius naturalista Nozick sicuramente è un gius naturalista dice l'uomo le persone hanno diritti e questi diritti non possono essere violati punto per Hume i diritti sono naturali in quanto sono la conseguenza del naturale della naturale evoluzione quindi non sono naturali perché ognuno nasce con un set di diritti inviolabili sono naturali perché siccome l'uomo mano a mano annusandosi ha capito che è meglio remare insieme è meglio cooperare è meglio che uno vada a caccia e l'altro vada a pesca è meglio che uno faccia i tessuti e l'altro invece coltivi i campi allora questi diritti sono naturali in questo senso nel senso che sono l'evoluzione naturale di quello che è come dire l'operare dell'uomo in società e che sono i fondamenti della giustizia sono tre in questo caso è molto sistematico è quasi Aristoteli dieci categorie di Aristoteli lui ha i tre fondamenti della giustizia la stabilità del possesso il trasferimento mediante consenso l'adempimento delle promesse quindi pacta sunt servanda il trasferimento mediante consenso e la stabilità del possesso ora lui peraltro tornando un attimo indietro non è che pensa che all'inizio ci sia stata una distribuzione di beni semplicemente attraverso uno scambio consensuale tra gli uomini che mano a mano si dicevano questo a me questo a te questo al figlio io questo ci ho lavorato io no perché questo sarebbe un qualche cosa idealistico sarebbe come se fosse una specie di contratto idealizzato dagli uomini no quando sono stati distribuiti i beni sulla terra non è che c'è stata una distribuzione iniziale oppure diciamo nel contrattualismo di Locke che naturalmente non è un contrattualismo ingenuo ma sostanzialmente Locke dice mano a mano uno metteva il recinto attorno alla terra la coltivava e quello insomma grazie al suo lavoro diventava la sua no la la distribuzione può essere stata anche tranquillamente generata da violenza soppruso quindi non è che necessariamente all'inizio c'è una distribuzione giusta che è governata da questi tre principi anzi la violenza il soppruso e l'abuso fanno parte della storia e dell'evoluzione umana Hume non è affatto un ingenuo non sarebbe così scettico se fosse così ingenuo quello che lui dice è che per una società che funzioni bene queste sono i tre questi sono i tre pilastri i fondamenti della giustizia a prescindere da come si sia creata la situazione attuale nella Scozia nell'Inghilterra del suo tempo nell'Europa e nel mondo ma siccome la storia è in continua evoluzione e ha un cambia cambia per diciamo l'agire dell'uomo quello che viene fuori è che il modo migliore perché gli uomini vivano insieme e lo sviluppo naturale di queste caratteristiche umane per vivere in società la simpatia bla 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 sono questi tre principi con questi tre principi le cose funzionano andiamo avanti adesso che abbiamo detto un po' di cose sulla politica vediamo qualcosa sull'economia perché sullo ium politico in realtà anche non so i libri di testo del liceo ne parlano dello ium politico non c'è dubbio nello ium filosofo politico non è la parte più importante del pensiero di ium nei manuali filosofici ma siccome invece la parte sulla religione la moralità è molto studiata di conseguenza un po' si studia anche la parte sulla politica quello che si studia meno è invece la sua parte economica che adesso come vedrete sulla sua parte economica noi troveremo ma moltissimo di quello che poi troveremo in modo sistematizzato da manuale di economia politica preciso che poi fece ad Asmito la ricchezza delle nazioni tra l'altro i due erano proprio di caratteri diversi quanto ium era spiritoso ironico sempre pronto a conversare a fare dei motti di spirito a viaggiare quanto Adam Smith invece era serio serioso pochi amici pochi grilli per la testa sempre immerso nei suoi pensieri e quindi erano anche due caratteri diversi ma che evidentemente si volevano molto bene allora date tutte queste premesse date quali sono i fondamenti della giustizia date o qual è l'approcciarsi dell'uomo in società e così via ecco che la considerazione che Jung fa del libero scambio viene quasi naturale cosa dice l'incremento delle ricchezze del commercio di qualunque nazione piuttosto che causare un danno di solito favorisce i paesi di mitro fino all'acquisto di ricchezze di commerci questo è adesso per noi ma questo è rivoluzionario fino a quel momento vigeva il mercantilismo più assoluto il libero scambio era libero scambio nel senso tu dovevi cercare di esportare più che potevi per accumulare oro e la Spagna aveva accumulato oro e argento dalle sue colonie del Sud America e manteneva i monopoli commerciali tra Spagna e Sud America e aveva un sistema di commercio completamente organizzato e centralizzato Jung che invece vede che poi questa bella cosa porta alla rovina della Spagna perché si chiede ma com'è che la Spagna che è stata sommersa di oro di argento in una quantità sconosciuta a qualsiasi impero perché gli estraeva veramente dando i calci alle pepite nell'Eldorado del Sud America importa questa roba domina un continente vastissimo in Europa per un certo periodo è stata appunto il sole non tramontava mai nell'impero di Carlo V come mai con tutto questo in realtà la Spagna è povera ma com'è sto fatto sto fatto è che in realtà non basta accumulare oro il valore del libero scambio sta nel fatto che scambiando ti arricchisci reciprocamente e se tu accumuli ma non scambi questa cosa non succede e infatti dice poi in un bellissimo saggio che si chiama jealousy of trade in cui appunto mette alla berlina il mercantilismo il trade non deve essere un qualche cosa appunto di gelosia perché io voglio esportare e accumulare dove viene garantita la libertà di scambio tra le nazioni è impossibile che l'economia interna di ciascun paese non riceva uno stimolo positivo dai progressi degli altri o questa è proprio la teoria della concorrenza che poi vediamo in altre in altre frasi quindi è una cosa di cui ha una consapevolezza lucidissima prima di Adam Smith la concorrenza stimola stimola l'ingegno serve a far progredire anzi uno stato potrà a malapena portare molto lontano il suo commercio la sua industria laddove tutti gli stati circostanze siano sepolte nell'ignoranza nella pigrizia alla barbare qui è messo barbiere ma comunque no non si riferiva a Figaro questo perché lui lo dice è perché noi abbiamo bisogno di vicini attivi di vicini che producano di vicini che ci stimolino di vicini con cui commerciare se siamo circondati semplicemente da stati dove non si produce c'è ignoranza barbarie non c'è nessuna non c'è niente che fanno meglio di noi ma questo è un guaio anche per noi per noi in questo caso Gran Bretagna o Regno Unito perché non impariamo niente e ancora una volta qui sempre sempre con l'ironia e un po' così di speffeggiamento di sti maledetti puritani che lui proprio non poteva soffrire non poteva soffrire dice che il lusso viva il lusso figuratevi potete immaginare anche semplicemente avendo visto non so i film dell'west americano dove ci sono i presbiteriani i puritani che stanno sempre vestiti con la giacca nera il famoso quadro con quello col polcone quelli erano tutti che venivano appunto dalla Scozia quindi erano proprio come dire gli asceti per definizione e invece lui dice usbirizza delle frasi spassosissime perché dice il commercio estero destra gli individui dall'indolenza e reca la parte più gaia ed opulenta che è vista benissimo meno male che c'è una parte più gaia ed opulenta del paese oggetti che non avrebbe mai sognato arricchisce i mercanti che sanno il segreto dell'importazione e stimola la competizione le industrie locali così che il loro acciaio e ferro diventano uguali all'oro e i rubini delle Indie anche questa è una intuizione fenomenale nessuno aveva detto una cosa simile nessuno si sarebbe sognato di poi nei fatti succedeva perché appunto c'erano alcuni stati che facevano un libero commercio e progredivano l'Inghilterra ma pensiamo alla ricchezza che si è generata nelle nostre repubbliche marinare pensiamo alla ricchezza che ha rappresentato Venezia per secoli qui abbiamo una veneziana per eccellenza quindi è tutta contenta pensiamo a quello che ha rappresentato Venezia non a caso repubblica non a caso aperta al libero commercio e non a caso in decadenza quando ha cominciato a a diminuire questa apertura nei confronti del mondo ha cominciato a espandersi per terra a prendersi Brescia Bergamo poteva lasciare Brescia Bergamo e continuare invece a commerciare quindi qui IUM dimostra una preveggenza formidabile l'acciaio e il ferro vale quanto l'oro e i rubini delle indie anzi nonostante le indie abbiano l'oro e i rubini alla fine sono più poveri di noi che facciamo acciaio e ferro quello che conta è saper produrre e saper commerciare lasciamo andare avanti aspetta forse abbiamo sono andate avanti di due eccolo qua allora qui cosa dice che naturalmente per ben commerciare e per avere un libero commercio ci deve essere un ambiente favorevole alla libertà ecco che la filosofia politica si intreccia con la libertà economica anche qui ancora una volta se poi pensate a quello che hanno detto tutti i filosofi liberali successivi vediamo la modernità assoluta di David Hume David Hume dice per avere un ambiente favorevole alla libertà e alle leggi fondamentali della giustizia è necessario che gli stati questo è bello una cosa che piacerebbe a molti nostri liberali è necessario che gli stati non siano di grandi dimensioni nulla è più favorevole alla nascita della civiltà e della cultura di un numero di stati indipendenti vicini collegati dal commercio e dalla politica e quindi il commercio lega è il presupposto della società e della comunità dei stati evidentemente qui Hume che cosa ha in mente ha in mente le polis greche poi le polis greche avevano un po' il difetto che magari alcune polis non erano molto libere tipo gli spartani tipo Sparta e avevano questo vizio di menarsi e ammazzarsi tra di loro però detto ciò è anche vero che siccome le guerre diciamo anche ai suoi tempi certamente non mancavano quindi in qualche modo una diciamo una visione irenica è una visione dell'umanità che viene solamente diciamo il primo che ce l'ha è Kant con la pace perpetua però insomma la pace come condizione naturale dell'umanità non è una cosa che è ancora molto sviluppata piccoli stati che commerciano tra di loro in libertà è l'ambiente migliore e favorevole tant'è che poi ci sono anche delle pagine sul fatto della libertà delle arti qui c'è proprio in mente Atene Atene ci ha lasciato le arti ci ha lasciato l'architettura ci ha lasciato la bellezza ci ha lasciato tutto perché era libero commerciava e quindi riusciva a progredire e i dazzi qui in questo caso in polemica a coloro i quali con coloro i quali nel Regno Unito volevano imporre dazzi per esempio alle merci che venivano dal Nord America se voi pensate poi Adam Smith questo lo lo esamina molto bene in modo scientifico uno dei motivi per i quali poi gli americani diventano indipendenti è perché erano avviluppati in una ragnatela di dazzi restrizioni tasse e questo alla fine fa sì che gli americani cerchino l'indipendente quindi dazzi ostacoli del commercio privano le nazioni confinanti di quella libera comunicazione di quello scambio che l'autore del mondo qui un piccolo omaggio al deismo lo fa anche lui ha voluto concedendo ad esse terreni clima e attitudini tanto differenti gli uni dagli altri qui come vedete c'è in luce anche la specializzazione i vantaggi comparativi ogni stato ha le sue attitudini il suo clima quindi si specializza in quello che sa fare meglio adesso lo vedremo c'è la teoria dei vantaggi comparativi c'è in Hume quindi noi scopriamo tutta una serie di cose che Hume dice che poi troviamo in Smith in Riccardo in Hayek e non sono mai state abbastanza come dire valorizzate nello studio di Hume e però esistono questo è un chiaro indizio del del libero scambio che porta alla specializzazione e che fa sì che quelli che hanno certe attitudini certi climi e così via si specializzano e riescono a commerciare con gli artistati andiamo pure avanti niente paura siamo quasi alla fine eccolo qua mi ricordavo infatti che avevo fatto una slide sulla Spagna perché per lui è proprio l'esempio negativo cosa dice prendendo ad esempio la Spagna nel XVI-XVII secolo la tendenza ad accumulare oro e argento non portava alla prosperità in quanto i prezzi in un paese cambiavano in parallelo la quantità di moneta la crescita dei prezzi avrebbe poi incoraggiato le importazioni innescando un meccanismo automatico di bilanciamento allora questa teoria alla lettera oggi non è accettata dagli economisti monetari però in nuce infatti lo dice Milton Friedman in nuce contiene i semi del monetarismo vale a dire che quando hai troppa moneta in questo caso troppo sottostante di oro e di argento la tendenza è che poi alla fine generi di inflazione i prezzi aumentano e quindi non hai più tutto questo vantaggio in questo caso ad avere il sottostante della moneta l'oro e l'argento non è che coniando non è che dando ordine alla zecca reale di coniare sempre più monete rendi la Spagna più ricca la rendi più inflattiva se non esiste qualche cosa di sottostante e anche sul debito pubblico molto moderno perché difficilmente qualcuno fino a quel momento si era occupato di cose tipo il debito pubblico anche i filosofi più grandi non è che Aristotele si fosse occupato del debito pubblico ma neanche John Locke che era molto moderno sul debito pubblico fa un'analisi che oggi è valida tale e quale il debito pubblico provocando l'emissione di titoli di debito del governo le nostre botte o il BTP attrae capitali che così vengono sottratte ad investimenti produttivi inoltre dove non bastavano le obbligazioni dello Stato soccorreva una fiscalità sempre più esosa che trasmetteva la ricchezza prodotta del lavoro ai creditori dello Stato ai rantier e favoriva la nascita di un nuovo leviatano modernità assoluta dal punto di vista del pensiero liberale questi aspetti adesso si stanno un po' riscoprendo di David Hume lui ha fatto vari saggi non è stato sistematico però in questi vari saggi che ha fatto c'è tutto e qui abbiamo la citazione sulla teoria dei vantaggi comparativi che anche questa è bellissima fa due o tre di questi passaggi che sono veramente godibili e questi saggi on commerce on jealousy of trade e così via sono anche abbastanza brevi si leggono con grande piacere lo Stato non deve temere che i suoi vicini possano progredire in tutte le arti e manifatture la natura offrendo una diversità di competenze di clima e di suolo alle varie nazioni ha assicurato la sussistenza di relazioni e commerci reciproci finché questi sono pacifici e assidui sono pochi gli inglesi guardate sembra la descrizione non so dei leghisti con l'olio d'oliva tulisino sono pochi gli inglesi che non pensano che la loro nazione sarebbe completamente rovinata se i vini francesi fossero venduti in Inghilterra talmente a buon mercato da soppiantare tutta la birra e i liquori distillati sull'isola che l'olio d'oliva tunisino soppiantassero così ma niente sarebbe più innocuo e probabilmente più vantaggioso magari venissero tutti questi vini francesi a prezzo più basso e con la qualità maggiore che soppiantassero i liquori e la nostra birra perché perché questo è il grande vantaggio del libero commercio ultima slide credo ah no penultima perché qui qui mi sono divertito a mettere un po' di queste citazioni perché sono citazioni fulminanti allora Hume questo pure è bellissimo perché proprio è dà l'impressione di quello che noi vediamo oggi cioè qual è la reazione media nei confronti del commercio la reazione protezionista no qui cioè all'inizio la merce è importata dall'estero con nostro grande disappunto eh non se ne può più arriva tutta sta roba dall'estero perché pensiamo che essa ci privi della nostra moneta in un secondo tempo le competenze stesse vengono gradualmente importate le competenze la concorrenza il commercio come processo di scoperta questo è quello che dice Hayek 200 anni dopo se nel passato gli stranieri i romani non ci avessero istruiti noi ora saremmo dei barbari meno male che hanno esportato le competenze e anche una nazione prospera e avanzata continua ad avvantaggiarsi delle frontiere aperte sottolineando che il commercio estero ha anticipato il progresso delle manifatture locali infatti nonostante lo stato avanzato delle nostre manifatture noi adottiamo giornalmente in ogni arte le invenzioni e i miglioramenti dei nostri vicini se questo non è la descrizione dell'ordine spontaneo della concorrenza di Hayek in cui milioni di individui interagiscono tra di loro e grazie a questo migliorano cos'altro è? Lo dice in due righe fulminanti ma questo è adesso penso proprio che sia l'ultima per vostra fortuna no sulla 18 c'è semplicemente scritto Adam Smith quindi l'influenza di Hume su Smith e Riccardo allora qui ho messo semplicemente un passaggio di Adam Smith perché l'ho trovato divertente perché ha a che fare col vino di David Hume quindi qui vedete la grande influenza qui Adam Smith che cosa dice no? il vantaggio comparativo che poi Riccardo formalizzerà proprio nel passato come questo allora cosa dice Adam Smith che un po' no? la cosa dell'autarchia tutto sommato quelli che parlano dell'agricoltura a chilometro zero dicono esattamente la parte iniziale di quello che Smith descrive per l'inglese agricoltura a chilometro zero produciamo adesso noi questa cosa dell'autarchia purtroppo a causa di quel pazzo criminale assassino di Putin cioè prima che ce la togliamo dalle spalle ne passerà un po' perché tutti quanti vorranno fare produrre in modo da essere strategicamente al sicuro perché ci può essere qualche pazzo che fa la guerra come la storia delle mascherine cioè dobbiamo produrre le mascherine in Italia ma no in realtà è bene che vengono prodotte poi certo purtroppo in effetti capitano delle emergenze e nelle emergenze come dire servono le mascherine non c'è niente non c'è niente da fare però nel normale andamento nell'ordinato andamento invece non è questo il vantaggio quindi appunto l'autarchia facciamoci a casa l'agricoltura a chilometro zero per mezzo di vetrate concimazioni e serre riscaldate si possono coltivare in Scozia ottime uve e con esso si può fare anche dell'ottimo vino cioè possiamo farci i peperoni nel nostro giardinetto sono buonissimi perché andiamo a prendere i semi di peperone e così via ci divertiamo ma finché è un divertimento va bene con una spesa quasi 30 volte più alta di quella con cui si può fare arrivare dei paesi stranieri un vino perlomeno altrettanto buono sarebbe dunque ragionevole quella legge che proibisce l'importazione di tutti i vini stranieri soltanto per incoraggiare la produzione del clarotto o del borgogna in Scozia evidentemente no e quindi con questa citazione alcolica che è un'ottima conclusione non potevano farsi mancare direi che la panoramica su filosofia politica e pensiero economico di David Hume il cui unico difetto è veramente semplicemente di non essere sistematico di essere presente in vari saggi di non mentre il grande merito lo ha sistematizzato ha fatto un trattato di economia politica in cui c'è un inizio e una fine però se fosse stato più sistematico David Hume si fosse dedicato di più a queste sue intuizioni e comprensioni della realtà probabilmente oggi sarebbe considerato un padre dell'economia politica alla stessa stregua di Adam Smith la sua assistematicità ci ha lasciato con delle cose importanti ma ci ha lasciato anche con il regalo che Adam Smith un po' di cose le ha raccolte e quindi ha potuto fare la sua ricchezza grazie per l'attenzione grazie mille professore per questa lezione è incredibile l'attualità di Hume però è sempre così quando si hanno dei pensatori che vanno veramente in profondità non c'è niente da fare saranno sempre attuali è questo allora in realtà non ci sono particolari domande per lei quindi vuol dire che è stato molto chiaro non solo raccolta una c'era Alberto Aleo che aveva scritto una domanda non so se la vuole fare direttamente lui sì certo buonasera intanto grazie professore per la lezione molto interessante mi sentite sì ecco mi chiedevo se a suo parere il fatto di annoverare fra i diritti naturali l'allempimento delle promesse non c'è in contraddizione con l'anticontrattualismo no perché David Hume che è per l'appunto empirico non è che nega la diciamo l'aspetto fondamentale che in una società si mantengano le promesse quello che lui diciamo contesta è che ci sia all'inizio della società umana un grande contratto sociale così come immaginato da Hobbes o da Rousseau o da Locke in cui all'inizio ci si mette tutti d'accordo e si procede questa è una cosa irrealistica e allora siccome lui è empirico dice ma è inutile che ci balocchiamo su delle cose irrealistiche che non possono essere accadute che non sono mai accadute per poi fare tutta una filosofia sottostante vediamo cos'è accaduto come per la storia delle religioni lui la religione dice inutile che ragioniamo di metafisica vediamo perché nascono le religioni quali sono le esigenze umane che soddisfano e così via e poi ci cerchiamo di fare un'idea ora naturalmente un conto è l'ipotesi come la fa Rawls appunto diciamo ma quella è un'ipotesi ancora una volta pro futuro cioè Rawls dice prima di immaginarci che tutti quanti siamo con un velo di ignoranza poi io non sono d'accordo nemmeno molto con Rawls però diciamo la legittimità logica esiste prima di pensare che siamo tutti con un velo di ignoranza e prima di immaginare come ci comporteremmo come ci comporteremmo non vorremmo essere l'ultima ruota del carro vorremmo che le cose che facciamo si premino quelli meritevoli ma se non vanno a svantaggio degli altri perché io potrei essere uno degli altri svantaggiati allora questa è una costruzione ipotetica che dice se noi pensiamo a come vorremmo che funzionassero le cose e ti faccio l'ipotesi del velo di ignoranza comportiamoci di conseguenza ma è una cosa ben diversa dal contrattualismo per il quale si dice c'è un grande contratto sociale all'inizio che in qualche modo io ti svelo qual è questo contratto sociale perché poi alla fine OBS dice questo cioè il contratto sociale qual è il contratto sociale diciamo cioè omo omini non pussa all'inizio si scannavano tutti fino a che è arrivato uno basta scannarsi e questo è l'unico modo per andare avanti quindi è quel contrattualismo quel contrattualismo inteso come ipotesi fondativa di una filosofia politica nei confronti del quale Jung è contrario ma sul fatto che invece si adempiano le promesse quello quello fa parte del comportamento che viene naturaliter agli uomini che vedono che tutto sommato per vivere bene in società se tu fai una promessa e il giorno dopo non la mantieni è difficile che la società progredisca così come la stabilità del possesso piuttosto del trasferimento volontario sono due promesse di stampo diverse un conto e la promessa individuale un conto è la grande promessa collettiva alla base della società grazie professore ho raccolto grazie grazie mille Gianluigi Calisesi chiedevo un chiarimento come sempre può accendere il microfono e fare la domanda eccomi qua buonasera volevo chiederle un chiarimento circa l'inflazione perché ha fatto ha citato l'esempio del conio di moneta che provocherebbe inflazione però la stampa di moneta forse senza sottostante comporta inflazione ma se io dalle miniere strago l'oro e produco monete e poi le scambio ad esempio sul mercato internazionale con dei beni in realtà mi arricchisco beh però allora come diceva come fa il barbaro con il gas come allora sì però il barbaro che ha tutte queste materie prime poi siccome non sa fare nient'altro alla fine della Spagna comunque dicevo oggi gli economisti monetari non prendono alla lettera l'ipotesi di Hume ma ne colgono l'intuizione e cioè che essendo la moneta un mezzo di scambio cioè la moneta è un mezzo per scambiare ma non è un bene poi Ada Smith su questa roba ci spende pagine cioè non bisogna considerare la moneta e l'oro che si trasforma in moneta come un bene in sé è un mezzo è rappresentante tentativo di merci ma quello che è importante è che tu sappia produrre le merci perché poi alla fine tu puoi avere tutte le monete che vuoi puoi comprarti tutto quello che vuoi ma se poi non sei è la cosa di Mao Zedong insegnati a pescare invece che dagli il pesce dopo che ti sei magnato tutti i pesci con le tue monete e non sei ancora capace di pescare alla fine ti impoverisci non c'è niente da fare in quel senso è vista come un'intuizione del monetarismo cioè produrre moneta che sia carta stampata perché poi naturalmente ci sono quelli autori del gold standard che danno all'oro una sorta di io credo quasi potere magico ma in realtà l'oro è la stessa cosa nel senso è un mezzo per lo scambio che fin dall'antichità è l'oro per le sue caratteristiche di metallo nobile e così via oggi diciamo sarebbe ovviamente molto meno importante anche con i metalli artificiali che ci sono però è rimasto l'oro ma è una convenzione l'oro è una convenzione che noi umani ci siamo dati e siccome appunto siamo gente che si evolve non cambia tutto da un momento a quell'altro così è rimasto ma in realtà l'intuizione è che la quantità di moneta o lo stampare o coniare moneta di per sé non porta ricchezza ma semmai può portare inflazione questo è poi ripeto la teoria di Hume non è dipende dai beni che ci sono dai beni disponibili perché se io ho monete d'oro e ci sono beni dei quali ho bisogno e posso scambiare queste monete con questi io mi arricchisco con l'oro magari non ci faccio nulla però l'oro è anche vero che è scambiabile perché è un bene necessario è ritenuto molto utile si è ritenuto molto utile per fare degli scambi nel senso che quando uno ha l'oro poi oltre ai gioielli che ci fa non è che ci fa molto è la stessa cosa che uno dice io stampo rubli e con i rubli mi compro le cose è un po' diverso l'oro è un po' diverso perché è un metallo nobile ma stringi stringi l'oro non ha un'utilità per sé ha un'utilità perché convenzionalmente l'uomo lo ha classificato in quanto metallo prezioso soprattutto nell'antichità aveva delle caratteristiche molto più di resistenza di qualsiasi altro metallo come un utile mezzo per scambiare con una monetina ad oro tu potevi scambiare magari dieci vacche che era molto più pratico che magari fare delle barre di piombo però non cambia molto quello che dice Jung l'importante non è avere l'oro per comprarsi le merci perché se poi tu rimani con queste merci ma continui a non saperle produrre continui a non saper commerciare e alla fine dopo che le consumate la rimani che è la stessa cosa che succede alla Russia loro non hanno l'oro esportano tutte queste materie prime queste questi milioni di tonnellate di materie prime poi siccome non fanno niente rimangono lì nonostante abbiano una ricchezza di materie prime incomparabili rispetto al resto del mondo se sapessero sfruttarle bene dovrebbero essere il paese più ricco del mondo grazie mille professore visto l'orario io terminerei qui la lezione perfetto allora vi aspettiamo tutti giovedì prossimo vi ringrazio e grazie professore De Nicola per averci per essere venuto qui in sede grazie grazie prof grazie mille grazie 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 buona serata grazie buona serata grazie grazie arrivederci grazie a tutti graziezie a tutti